La vostra voce è la nostra voce. Voi telespettatori sapete che ci potete fare le vostre segnalazioni via mail all'indirizzo vicenzachiocciola.it oppure anche potete raggiungerci via sms o via whatsapp al numero che compare qui in sovraimpressione o se preferite quando ci incontrate per strada come è accaduto con questo signore, un cittadino di Vicenza che ci vuole fare una segnalazione. Per questo ci ha fermato. Grazie, sì. La segnalazione che volevo fare, siccome lo sapete fare con persone disabili, che accompagno qui in municipio, in comune, ho notato da tanto tempo che c'è un ascensore che non permette alle persone di salire, le persone disabili è un ascensore piccolissimo. Un ufficio pubblico, quindi stiamo parlando del palazzo alle nostre spalle, qui ci sono gli uffici comunali, siamo in piazza Biade, un angolo di piazza dei signori a Vicenza e qui in questi uffici comunali non c'è un ascensore che permetta ai disabili di salire? Ma è una cosa che da anni, da secoli che va avanti così e nessuno ci ha mai pensato, bisogna mai pensarci. Noi di Rete Veneta prendiamo in carico questa sua segnalazione e la porteremo al sindaco e agli assessori, proprio perché venga davvero presa in considerazione. Poi se lei è un nostro telespettatore lo sa che noi non molliamo, siamo tignosi. Lo so, lo so. Ogni sera guardo le vostre trasmissioni, quindi lo so benissimo. Conosci il nostro telegiornale, è un nostro affezionato. Vi aspettavo per strada, vi aspettavo per strada proprio perché non avevo possibilità di comunicarsi se non per strada. E noi prima o poi passiamo, quindi anche voi se ci vedete per strada e volete farci le vostre segnalazioni fermateci. Per quanto invece riguarda la sua segnalazione, visto che noi non molliamo, lo sa, non finisce qui. Quindi continua. Continua e vi aspettavo sulla buona strada.